La raccolta è differenziata, ma i cittadini sono tutti uguali. È diventato un vero e proprio caso, quello sollevato da Rete Veneta, sulla gestione dei rifiuti davanti al campo nomadi di Viale Cricoli a Vicenza. Tutto è nato dalla segnalazione sul nostro gruppo Facebook di una telespettatrice che, giustamente, chiedeva chiarimenti. E noi oggi portiamo la questione all'assessore all'ambiente, Lucio Zoppello. Cosa risponde? Dopo la vostra segnalazione su Rete Veneta, noi abbiamo già attivato delle iniziative, innanzitutto con la collaborazione della collega Silvia Maino, che si occupa di sociale, proprio per portare a far sì che ci sia da un lato informazione e formazione per quanto riguarda l'attuazione della raccolta differenziata, cosa che deve essere fatta da tutti i cittadini, i nomadi compresi. E già, è una questione di equità. Anche i nomadi del campo di Viale Cricoli devono poter beneficiare della raccolta differenziata come tutti gli altri cittadini, giusto? Assolutamente sì. Non devono beneficiare, ma devono anche utilizzare in maniera corretta questo tipo di smaltimento. Certo. Pari diritti, pari doveri. E allora, questa è la vera integrazione, eh. E allora, assessore, come rimaniamo? Ma che adesso, appunto, metteremo in campo queste iniziative proprio per far sì che anche lì venga svolta correttamente la raccolta differenziata come nelle altre parti, diciamo, del quartiere. Bene. Noi siamo soddisfatti. Aspettiamo una sua chiamata quando sarete operativi con la raccolta differenziata davanti al campo nomadi di Viale Cricoli. Fino ad allora, per quanto ci riguarda, la questione continua.